Il bando per i 39 autisti soccorritori del 118 di Taranto, rimasti fuori dalla scorsa internalizzazione, potrebbe arrivare già dalla prossima settimana. Confronto serrato in regione. Una nuova avvertenza si aggiunge al panorama tarantino e quella dello stabilimento HIAB Italia di Statte. La proprietà vorrebbe trasferire la produzione di gru a Bologna. 102 lavoratori rischiano il posto. Una strada centralissima di Taranto, all'asfalto completamente dissestato e da anni viene solo rattoppato, ma presto la situazione cambierà, assicurano dal comune. Ben ritrovati nuovamente in diretta il momento dell'informazione dedicata a Taranto e provincia. Potrebbe mancare davvero poco per il prossimo bando di internalizzazione dei 39 autisti del 118. Già la prossima settimana potrà essere emanato un bando per internalizzare gli ultimi 39 autisti soccorritori dell'ASL di Taranto nel quadro di una carenza di personale. La buona notizia arriva dalla terza commissione sanità della regione Puglia, dall'audizione di chieste in particolare dai consiglieri Antonio Paolo Scalera, la Puglia domani e Massimiliano di Cuglia di Forza Italia. Una mancanza di personale che in estate si acuisce, difficile affrontare l'inevitabile sovrapposizione tra maggiori necessità e maggiori assenze del personale in servizio per ferie e permessi. Il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, ha descritto la gravità estrema della situazione. Sarebbero previsti 85 medici, ma ce ne sono solo 16, mancano poi 30 infermieri e 39 autisti soccorritori, per i quali però, come detto, si potrà intervenire già nei prossimi giorni, lo ha assicurato il direttore generale di Sanita Service, Giuseppe Pulito. Moderata soddisfazione dai sindacati UIL, FPL e USB, che rimarcano che la criticità era di gran lunga prevedibile e bisognava intervenire già prima, ma adesso si faccia in fretta. Soddisfatto invece il consigliere del presidente della regione, Mino Borcino. Critico invece il capogruppo dei 5 Stelle in consiglio regionale, Marco Galante, che dice perché l'avviso non è partito per tempo. Un terminal mai entrato in funzione a Taranto. Il punto nel servizio. Che fine ha fatto il centro servizi polivalente Falanto al Molo San Cataldo nel Porto Ionico? Abbiamo voluto indagare. Abbiamo scoperto che entro una decina di giorni si conoscerà la sorte definitiva dell'opera. La posa della prima pietra della struttura avvenne il 18 giugno del 2016. L'investimento previsto era di 7 milioni di euro, con la previsione di un anno di lavori per la realizzazione del centro, che inizialmente era stato individuato per l'accoglienza dei croceristi. Adesso sono trascorsi 8 anni e quella struttura, quasi completata, è ancora chiusa. Da allora più di qualcosa è andato storto, al punto da spingere l'autorità di sistema portuale del Marionio, guidata da Sergio Prete, a risolvere il contratto per la mancata consegna dell'opera. I lavori si sono fermati del tutto nell'aprile del 2023, con l'apertura del contenzioso tra autoriti e imprese appaltatrici, che a sua volta ha richiesto risarcimento d'anni per la risoluzione del contratto. Ora la svolta, o almeno si spera. Entro dieci giorni si terrà un vertice decisivo, tra Autorità Portuale e Taranto Cruisport, la società che gestisce i servizi logistici per l'arrivo delle navi da crociera, per decidere il futuro del centro polivalente Falanto. Dopo otto lunghissimi anni si dovrà decidere dunque come utilizzarlo. Due le ipotesi sul tavolo, tornare alla destinazione primaria, quella di Terminal per l'accoglienza dei turisti, operando modifiche al progetto originario, oppure adibirla a sede di uffici per l'autority di un port center, per la promozione dell'area portuale, di un auditorium e di un punto per la ristorazione. La speranza, in ogni caso, è che questa struttura innovativa e accogliente possa entrare in funzione e diventare un punto di riferimento per i croceristi che giungono e partono da Taranto. Un luogo degno di una città che vuole diventare turistica e che non può perdere questa grande occasione. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo tarantino di 26 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Trasmessi gli atti all'autorità giudiziaria competente, l'uomo è stato arrestato e posto in regime di arresti domiciliari. Ci occupiamo ora di lavoro perché una nuova avvertenza si aggiunge al panorama tarantino e quello dello stabilimento HIAB Italia di Statte. La proprietà vorrebbe trasferire la produzione di gru a Bologna ed in 102 lavoratori rischiano il posto. 102 famiglie con il laffiato sospeso, le bandiere dei sindacati confederali sventolano sotto la calura all'inferriata dell'impresa HIAB Italia a Statte e segnalano lo stato d'agitazione già iniziato che culminera lunedì 15 a partire dalle 8 con un presidio dei lavoratori sotto la prefettura di Taranto. È diventata incandescente la situazione dello stabilimento HIAB. La direzione aziendale avrebbe deciso di spostare a Minervio, vicino Bologna, le attività manifatturiere per la produzione di gru attualmente realizzate a Statte e sta aprendo una procedura di proroga di cassa integrazione a zero ore per tutto il personale in forza. FIM, FIOM e Wilmer spingono con decisione tutte le ipotesi di delocalizzazione e chiedono l'intervento di governo e istituzioni per l'apertura di un tavolo di confronto con l'azienda. Si è rivelata una sostanziale delocalizzazione malcelata rispetto a quest'ennesima procedura di otto settimane che ovviamente abbiamo rimandato al mittente visto che comunque sia tutti gli indicatori che erano stati premessi al tavolo di confronto hanno dato come obiettivo tra le righe un destino che portava unicamente e porta unicamente alla chiusura del sito di Taranto. Non accettiamo questa impostazione, la rimandiamo assolutamente al mittente. Abbiamo intimato all'azienda di ritornare sui propri passi e di rivedere la propria posizione e partiamo da subito con uno stato d'agitazione con uno sciopero, con un presidio in prefettura che è l'organo deputato territorialmente del governo per poter discutere di questa condizione insostenibile. Una segnalazione giunge alla nostra redazione giornalistica riguarda una strada dissestata nel centro cittadino a Taranto. Avallamenti, pendenze e buche è vero non troppo profonde ma comunque dannose per il confort di marcia e soprattutto per le componenti di automobili e moto nel caso delle due ruote poi il rischio è di inciamparvi e cadere rovinosamente sull'asfalto. No, non è una strada di un paese dimenticato o disabitato tutt'altro una delle vie principali e più percorse di Taranto città che adesso vuole sempre più proporsi anche ai turisti ma che talvolta dimentica i propri cittadini. Ci troviamo nel pieno borgo Umbertino in via Pitagora a fare da contorno la grave sporcizia e i marciapiedi in stato pietoso. In queste settimane ad essere ferite ci sono anche via Sauro e via Pupino ulteriori scavi e lavori. Interpellato sui disagi per i cittadini l'assessore comunale al ramo Cosimo Ciracci ci fa sapere la buona notizia via Pitagora sarà completamente riasfaltata dall'Enel quando finiranno i lavori di ammodernamento della rete dunque Tarantini. Un po' di pazienza. E si ritorna anche a parlare di un possibile porticciolo a Torre Colimena Marina di Manduria. Gli investitori tentano il tutto per tutto ora la parola passa al Consiglio di Stato. Non naufragano le ambizioni degli investitori che da anni aspirano a realizzare un porticciolo turistico a Torre Colimena Marina di Manduria e a fare concorrenza all'unico approdo sul versante orientale ionico escludendo Taranto quello del vicino Campomarino di Maruggio. Dopo la bocciatura del Tar di Lecce che aveva respinto il ricorso contro il diniego del comune di Manduria la speranza ora è tutta sul parere favorevole del Consiglio di Stato che ha colto la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale. Il progetto prevede la concessione di un'area demaniale marittima per la realizzazione di una base nautica di servizi di diporto e turismo nella baia di Torre Colimena gestita ora dalla Lega Navale e di punti di ormeggio attrezzati. Il progetto però fu presentato prima della decisione di ubicare lo scarico emergenziale del nuovo depuratore collegato nel bacino di Torre Colimena. Intanto la settima sezione del Consiglio di Stato ha fissato la prossima udienza pubblica per la trattazione del ricorso in appello il 10 dicembre 2024. Emozione nel quartiere Paolo VI a Taranto in una serata in ricordo del giovane Morris Cellammare. Il centro sportivo del Corpus Domini gremito di gente per il saluto a Morris Cellammare il giovane calciatore di 26 anni scomparso lo scorso 1 luglio in seguito ad un incidente stradale avvenuto alle porte di Fra Gagnano. In occasione della finale dello storico torneo cittadino molto sentito tutto il quartiere Paolo VI si è stretto intorno alla famiglia di Morris c'erano i suoi genitori sua madre che ha dato il calcio d'inizio della finale che Morris avrebbe dovuto e voluto giocare. La mamma commossa ci ha fatto ascoltare l'ultimo messaggio vocale di suo figlio che a questa partita ci teneva particolarmente. grande emozione per un evento che ha fatto commuovere i tanti presenti i suoi compagni di squadra gli avversari e tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato. Non ho parole credimi non ho parole ringrazio a tutti quartiere Damburi Daniella città vecchia credimi non ho più parole è nato tutto come un divertimento per lui però purtroppo ci siamo ritrovati in questa disgrazia quindi ci stiamo giocando questa finale nel ricordo di Morris per la cronaca la finale se l'è giudicata la squadra delle case bianche non quella dove giocava Morris ovvero gli Assassin's Squad partita finita 4 a 2 ma alla fine hanno vinto davvero tutti è stato presentato nel porto di Campomarino il libro del professor Stefano Vinci sul codice della pesca su iniziativa delle biblioteche terre del primitivo la tutela della pesca dal medioevo a oggi questo è il tema al centro del dibattito svoltosi al porto di Campomarino di Maruggio su iniziativa delle biblioteche delle terre del primitivo di Fulvio Filoschiavoni presenti all'evento presentato dalla professoressa Maria Pia Fusco l'autore del libro il Codex Piscatorius Tarentinus professor Stefano Vinci il comandante della guardia costiera di Taranto Rosario Meo il sindaco di Maruggio Alfredo Longo Michele Conte presidente del Propeller Club Port of Taras e Antonio Edoardo Favale oltre a numerosi altri esponenti e ospiti è un libro che racconta una storia la storia di un codice la storia di regole regole della pesca regole che addirittura risalgono all'età bizantina che furono importate dai greci nel nostro territorio e che tutelano il nostro mare non solo il mar piccolo il mar grande ma perché a Campomarino perché il litorale tarantino andava arrivava fino al fiume Borraco cioè fino a Torre Ovo seppur Maruggio non abbia una grande tradizione in realtà pescareccia perché forse più stata nel tempo una comunità che ha vissuto di agricoltura quindi non sfruttando mai appieno la risorsa mare da un punto di vista economico ittico ma più che altro economico turistico ma oggi fortunatamente riusciamo anche a dare un ruolo a questo territorio da questo punto di vista Termina qui il Tg dedicato a Taranto e Provincia grazie per averci scelto tra pochissimo l'informazione dedicata a Brindisi e Provincia Dovranno difendersi dall'accusa di detenzione e fini dispaccio di droga 17 persone a cui è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare dagli agenti del commissariato di Mesagni in provincia di Brindisi disposta dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura il traffico di sostanza stupefacente sarebbe avvenuto in diversi centri della provincia Brindisina tra cui Mesagni Torre Santa Susanna e Cellino San Marco sono quattro gli indagati per la morte della 25enne fasanese precipitata nel vano ascensore gli ultimi tre avvisi di garanzia sono stati notificati nell'imminenza dell'autopsia mal di pancia politici a San Michele Salentino la presidente del consiglio fuori dalla maggioranza il sindaco chiarisce bene trovati nuovamente in diretta avrebbero sperato di controllare lo spaccio nel centro storico di Mesagni sempre affollato di giovani che frequentano la Movida 14 persone sono state arrestate da altre tre sono state sottoposte al divieto di dimora dalla polizia avevano tentato di insinuarsi nel centro storico di Mesagni per spacciare droga soprattutto cocaina ai giovani che frequentano i locali della Movida all'alba di giovedì i poliziotti del commissariato di Mesagni che hanno condotto le indagini hanno eseguito 17 ordinanze cautelari di cui 5 in carcere 9 agli arresti domiciliari e 3 divieti di dimora emesse dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della procura 12 indagati sono di Mesagne 4 di Torre Santa Susanna e 1 di Cellino San Marco l'indagine è partita da un pestaggio avvenuto nel settembre 2022 ai danni di un ristoratore mesagnese che si era ben guardato dal denunciare l'aggressione attraverso i sistemi di videosorveglianza i poliziotti diretti dal vicequestore Giuseppe Massaro non solo hanno avuto conferma dell'aggressione ma hanno scoperto che il ristoratore era abituale assuntore di sostanza stupefacente e utilizzava il suo locale anche come luogo di spaccio l'inchiesta denominata piazza pulita si è allargata rapidamente ed è stata collegata ad altri due pestaggi avvenuti sempre nel centro storico di Mesagne ai danni di ragazzi rimasti feriti in maniera grave si è scoperto così che il successo dei locali della Movida mesagnese frequentati da centinaia di giovani ogni sera aveva attirato l'attenzione non solo degli spacciatori del paese ma anche di quelli provenienti da Torre Santa Susanna e da Cellino San Marco nel corso delle indagini sono stati acquisiti numerosi riscontri con il sequestro di dosi e anche al momento dell'esecuzione delle ordinanze cautelari giovedì mattina alcuni degli indagati sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 240 grammi tra cocaina e hashish e quindi due dei soggetti già destinatari di misura cautelare sono stati anche arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di droga sono quattro gli indagati per la morte della 25enne fasanese precipitata nel vano ascensore gli ultimi tre avvisi di garanzia sono stati notificati nell'imminenza dell'autopsia sale a quattro il numero degli indagati per la morte di Clelia di Tano la ragazza fasanese di 25 anni precipitata nel vano ascensore della palazzina in cui viveva oltre all'amministratore del condominio un professionista fasanese che aveva ricevuto un'informazione di garanzia nelle ore successive alla tragedia altri tre nomi sono stati scritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio colposo si tratterebbe di persone legate alla manutenzione e alla revisione dell'ascensore al centro delle indagini c'è proprio l'ascensore la cui porta si aprì al quarto piano nonostante la cabina si trovasse 15 metri più sotto la salma di Clelia nelle scorse ore è stata trasferita dall'obitorio del cimitero di Fasano a quello di Brindisi dove si svolgerà l'esame autoptico subito dopo la salma sarà affidata alla famiglia a quasi due settimane dall'incidente contestualmente la PM Livia Orlando ha affidato una perizia sull'ascensore che dovrebbe essere determinante per la definizione di eventuali responsabilità una terza perizia sarà svolta sullo smartphone della sfortunata ragazza un operaio che si occupava di manutenzione ha accusato un malore mentre eseguiva dei lavori la denuncia è della Feneal Will corriamo ai ripari dicono prima di un'altra tragedia la denuncia parte dalla Feneal Will di Brindisi nella giornata di mercoledì 10 luglio in un cantiere edile manutenzioni ACP ambito 14 un operaio accusato un malore per un colpo di calore soccorso da un collega è stato trasportato nell'ospedale di Ustuni per le cure del caso ma le cause per il sindacato non sono da debitare solo al caldo ma anche al sotto organico con cui questi operai si trovano a fare i conti noi con questa azienda dell'acquedotto abbiamo delle grosse difficoltà proprio in merito a questa situazione ci sono sette lavoratori che sono fuori sempre della stessa azienda che naturalmente non vengono richiamati e reimpegnati pur avendo con dichiarazioni fatte da loro dal capofila un arretrato di manutenzione nell'acquedotto che ripeto dell'edilizia è quello più peculiare perché lavora sulle strade e l'asfalto porta a centinaia di gradi non a 35 questi lavoratori potevano benissimo essere integrati visto che l'organico è carente ma addirittura vogliono fargli fare la reperibilità una voce che naturalmente non è stata mai concordata col sindacato il fatto accade a poche ore dall'ordinanza del presidente Emiliano che vieta i lavoratori del compatto edile fotovoltaico di lavorare dalle 12 a 30 alle 16 conoscendo proprio il presidente Emiliano lo ringraziamo come Feneal perché di fatto con questa ordinanza finalmente mette come quella dell'INAIL dei punti importanti però l'episodio di ieri è successo alle 11 quindi tutto sommato mettere dalle 12 e 30 fino alle 16 sì è un primo passo ma non risolve il problema perché i caldi di questi giorni possono portare un malore in qualsiasi momento parliamo ora di politica con mal di pancia a San Michele Salentino la presidente del consiglio fuori dalla maggioranza il sindaco chiarisce Allegrini sta passando in Fratelli d'Italia assolutamente no nessun passaggio non per Fratelli d'Italia ma in nessun partito soprattutto in questo momento perché ho avuto un mandato da largo consenso e la gente ha sposato e condiviso insieme a me un progetto civico di centrosinistra era e di centrosinistra resta il sindaco di San Michele Salentino Giovanni Allegrini e poco conta che la presidente del consiglio comunale Marianna Matarrese nel frattempo transitata in Fratelli d'Italia abbia secondo il primo cittadino assunto atteggiamenti contrari alle politiche in odor di civismo da sempre portate avanti dall'esecutivo e da quella maggioranza da cui è stata allontanata dopo l'ultimo consiglio comunale sono stati degli atteggiamenti che non ho condiviso che mi hanno fatto perdere la fiducia non solo a me ma anche alla quasi totalità dei componenti della maggioranza eccetto di una persona ragion per cui ritengo che il presidente del consiglio possa continuare a svolgere il suo ruolo da presidente perché ribadisco non c'è nulla di personale in questa scelta anche perché è stata suffragata unanimamente da noi come presidente del consiglio comunale l'abbiamo sostenuta noi non vedo perché se lei continua a svolgere il suo ruolo con terziarietà e imparzialità non lo possa svolgere serenamente l'esclusione della matarese non è stata unanime a non votare il provvedimento è stata la vice sindaca Tiziana Barletta che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito lo ha fatto via nota stampa la stessa presidente del consiglio non è certamente avvenuto da parte mia alcun cambiamento di casacca ero il resto dice la matarese una donna di centrodestra e proprio per questa mia coerenza continuerò con impegno abnegazione ed imparzialità a svolgere il mio ruolo istituzionale il brindisi vede la luce dopo aver rischiato la radiazione e il fallimento la nuova società è riuscita a saldare nei termini prestabiliti tutti i debiti pregressi oltre un milione di euro che garantiranno l'iscrizione al prossimo campionato di serie di Fabrizio Caglianiello oltre un milione di euro tanto serviva per salvare il brindisi da un fallimento annunciato una corsa contro il tempo per evitare di perdere il calcio nazionale e ripartire dal campionato regionale di promozione al quale molti erano ormai rassegnati la nuova società del presidente Giuseppe Roma ha dovuto scalare una montagna dopo aver acquisito le quote un'impresa promossa dal deputato brindisino Mauro Dattis che da mesi stava cercando forze e risorse per dare continuità al calcio brindisino per ottenere la licenza nazionale però e dunque l'iscrizione serviva a pagare tutte le pendenze arretrate circa un milione di euro solo di stipendi ieri l'iter è stato completato ora toccherà la Covisod l'organo di controllo delle società in sede alla Lega Nazionale di Lettanti esprimersi quando sarà ufficiale sarà come aver vinto un campionato ha commentato il presidente Roma un percorso reso ancora più complicato dal fatto che nessuno dei tesserati fatto eccezione per l'ex allenatore Fabio Roselli e il calciatore Malico Pula ha accettato qualsiasi tipo di transazione pretendendo legittimamente ovviamente l'intero importo l'analisi delle carte ha fatto emergere anche i contratti assolutamente sproporzionati rispetto al reale valore dei calciatori del resto il brindis è retrocesso da ultimo in classifica ora potrà iniziare finalmente il calciomercato per programmare una stagione che sarà molto complicata data soprattutto la pesante penalizzazione in classifica nella consapevolezza però che è iniziata una nuova era ci spostiamo ora a Francavilla Fontana posti quasi sauriti al cimitero di Francavilla Fontana il comune corre ai ripari la giunta comunale ha avviato un progetto per un ampliamento inglobando un'area agricola sud ovest del Camposanto dove dovranno essere effettuati degli spropri la stima preliminare dei costi di questo intervento ammonta 4 milioni 800 mila euro l'esecutivo nell'approvare il documento di indirizzo alla progettazione redatto dall'ingegnere Vincenzo Cavallo con il supporto del progettista esterno l'ingegnere Angelo Sgura ha dato mandato al dirigente dei lavori pubblici l'architetto Luigi Resta di attivare gli step conseguenziali lo scorso 3 aprile il consiglio comunale ha deliberato l'avvio del primo lotto per un importo sulla base delle risorse già disponibili di 500 mila euro l'ampliamento riguarderà nello specifico un'area di circa 18.700 metri quadri ma c'è un'altra anvito dove è collocato il cimitero sarà realizzato un rondò in prossimità dell'attuale ingresso principale inoltre sarà migliorato l'assetto viario di tutta la zona e saranno realizzate nuove aree verdi l'ampliamento del cimitero comporta dunque l'esproprio di terreni fabbricati esistenti in quell'area individuata dai tecnici comunali al cimitero si prevedono dunque più posti per la sepoltura sottoterra nuovi loculi comunali e la costruzione di nuove cappelle all'inizio di aprile scorso era stata segnalata la scarsa disponibilità di posti nell'ultimo loculo realizzato a tempo fa dal comune a Cisternino è tutto pronto per il festival internazionale delle bande musicali si svolgerà dal 18 al 21 luglio la presentazione in conferenza stampa nella villa comunale di Cisternino è stato presentato il programma del 26esimo festival internazionale delle bande musicali in Valle d'Itria sotto una volta di luminari e gli organizzatori hanno raccontato la quattro giorni di musica che dal 18 al 21 luglio trasformerà Cisternino in capitale delle bande con un concept musicale e scenografico tutto pugliese voluto dal direttore artistico e maestro Donato Semeraro nell'ottica di promuovere le tradizioni i paesaggi e i sapori della Valle d'Itria da sempre una delle missioni del festival il borgo più bello d'Italia si vestirà a festa con decine di luminarie mentre nella splendida piazza Garibaldi dominerà l'iconica cassa armonica ci apprestiamo a questa 26esima edizione del festival internazionale bande musicali Valle d'Itria una kermesse che negli anni ha portato qui a Cisternino e in Puglia migliaia e migliaia di artisti provenienti da ogni parte d'Europa e del mondo penso a bande provenienti da Israele Palestina Ucraina Russia Stati Uniti di America simbolo di quanto questo festival possa fondere tradizioni tra loro diverse nel nome della musica è un evento importantissimo per Cisternino per la Puglia e non solo è questa quest'anno finanziato con i primi proventi dell'imposto di soggiorno istituita dal 2024 e speriamo che possa sempre più diventare un evento che attira tanti turisti proprio perché è in grado di unire tradizione da un lato e innovazione ed è quello che credo sia il punto di forza di un paese come Cisternino Ed è tutto termina qui il TG dedicato a Brindisi e provincia ci fermiamo per qualche istante tra poco E' stato consegnato questa mattina un nuovo immobile per la sede logistica dell'ufficio locale marittimo di Porto Cesareo a Lecce è nata la nuova giunta Poli Bortone ascoltiamo le parole del sindaco Salento Caroppo parla della strada statale 275 si pensi al secondo lotto dice Ben ritrovato il momento dell'informazione dedicata a Lecce e provincia la politica in primo piano con la nascita della giunta Poli Bortone ascoltiamo Una riunione fiume alla quale hanno preso parte tutti i vertici dei partiti arrivati alle 9.30 a Palazzo Carafa i leader si sono confrontati per trovare la quadra al termine dell'incontro il sindaco ha immediatamente convocato la stampa per annunciare che il centro-destra è unito che noi siamo qui esattamente quanti eravamo all'inizio della campagna elettorale siamo tutti insieme trovati per l'ultima volta fra di noi per arrivare alla conclusione definitiva di quello che sarà la giunta abbiamo raggiunto tutti quanti i nostri accordi li abbiamo anche definiti nel dettaglio io voglio fare una conferenza stampa più tardi non so più pomeriggio adesso vediamo quando in modo tale che voi possiate sapere con esattezza i contenuti delle deleghe gli impegni di vari livelli che possono essere stati assunti anche in termini più squisitamente politici il sindaco non intende scegliere il sindaco intende essere sintesi di scelte e di responsabilità così abbiamo fatto non ci sono defezioni mi dispiace dirlo però non ce ne sono nessuno si è sforzato di avere defezioni siamo tutti qua uniti compatti contenti soddisfatti felici di poter iniziare da domani con la prima giunta che convocherò fra qualche minuto il sindaco non ha voluto dare i nomi degli assessori ma da indiscrezioni dovrebbero essere Martini all'ambiente scorrano urbanistica Roberto Giordano Anguille ai lavori pubblici guido servizi sociali capoccia municipale battista edilizia scolastica margiotta attività produttive greco tibuti agente digitale legalità e contenzioso Laura Calò servizi demografici Monticelli presidente del consiglio E' stato consegnato questa mattina un nuovo immobile per la sede logistica dell'ufficio locale marittimo di Porto Cesare Nella mattinata di giovedì 11 luglio l'amministrazione comunale di Porto Cesare ha consegnato al direttore marittimo della Puglia della Basilicata Ionica l'ammiraglio Vincenzo Leone un immobile situato nel territorio comunale confiscato alla criminalità organizzata che sarà destinato ad uso governativo a beneficio dell'ufficio locale marittimo di Torre Cesare L'affidamento 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 della struttura avvenuto mediante il taglio del nastro all'esterno dell'edificio e la consegna delle chiavi al comandante dell'ufficio locale marittimo Antonio Iacovelli è stato preceduto dalla sottoscrizione del verbale di consegna alla presenza del capitano di Vascello Francesco Perrotti e delle autorità civili e militari Un lavoro di sinergia tra amministrazione e Capitaneria di Porto come riscontra questa giornata di oggi perché anche noi potevamo richiedere questo bene ce l'abbiamo richiesto però giustamente abbiamo preferito cederlo alla Capitaneria di Porto per dare anche importanza all'istituzione militare e perché ci sia appunto sinergia e dare collaborazione in tutto questo La consegna dell'immobile è finalizzata a migliorare gli ambienti lavorativi e di vita del personale dipendente permette di accrescere l'operatività degli uffici periferici della Capitaneria di Porto L'importante per chi vi parla è sapere che i propri uomini e le proprie donne della Guardia Costiera Pugliese abbiano sempre di più una realtà logistica adeguata all'impegno allo sforzo che ogni giorno dedicano a queste comunità di mare a queste comunità costiere quindi veramente è una giornata felice vi è più del fatto che l'immobile che stiamo acquisendo ha una storia particolare ringraziamo in questo caso l'amministrazione comunale la sindaca Un alert giunto nella sala operativa della Questura di Lecce ha permesso agli agenti di arrestare un uomo sul quale pendeva un mandato d'arresto europeo Doveva scontare doveva scontare un anno di reclusione a causa di una condanna emessa dal tribunale di Bailecht in Romania per i reati di percosse e lesioni personali volontarie in realtà era a Lecce in compagnia di due donne entrambe della stessa nazionalità e con precedenti La presenza dell'uomo un 25enne di origini rumene nei confronti del quale era stato emesso un mandato d'arresto europeo è stata segnalata agli agenti della polizia di Lecce in un BNB del centro città in seguito ad un alert del servizio alloggiati Immediatamente i poliziotti hanno raggiunto il 25enne il quale dopo alcune verifiche sul posto effettuate dalla divisione Interpol è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola a disposizione del presidente della Corte d'Appello di Lecce Era stato condannato a 14 anni di reclusione in primo grado accusato di violenza nei confronti della figlia e della madre di quest'ultima una donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale iniziata con uno scambio epistolare durante il periodo di detenzione per uxoricidio in un carcere in Germania Al termine del secondo grado di giudizio però la Corte d'Appello di Lecce presieduta da Carlo Enrico affiancato dai giudici Alessandra Ferraro e Luca Colitta ha completamente riformato la sentenza del primo grado emessa nei confronti di un 56enne originario di San Pietro Vernotico ma residente a Uggiano la Chiesa assolvendolo in formula piena dai reati Stando alle carte dell'inchiesta il comportamento vessatorio dell'uomo nei confronti della donna e della figlia sarebbe iniziato nel periodo pandemico da maggio 2020 a novembre 2021 le due malcapitate sarebbero state prigioniere dell'uomo obbligate a svolgere lavori domestici senza intrattenere rapporti con altre persone e impossibilitate a comunicare anche tra di loro violenza offese ingiuri erano all'ordine del giorno motivo per il quale il 56enne venne arrestato e condotto in carcere nonostante si fosse professato sempre innocente già in primo grado la difesa dell'imputato aveva dichiarato l'inattendibilità del racconto fatto dalle vittime e proprio su questo punto gli avvocati Rita Ciccarese e Francesco Calcagnile sono tornati nel dibattimento del secondo grado sottolineando come fosse palese che nel suo racconto la bambina avesse subito l'influenza della madre risultando perciò inattendibile nei confronti dell'uomo il procuratore generale Giovanni Liotta aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado annullata però al termine del giudizio dalla Corte d'Appello di Lecce le motivazioni saranno depositate nei prossimi 90 giorni Si torna a parlare della strada statale 275 lo fa l'onorevole Caroppo dicendo si pensi al secondo lotto il tratto stradale 275 Maglia Leuca in particolare il secondo lotto Montesano Santa Maria di Leuca è al centro di un'intensa attività volta ad accelerare i lavori dopo aver celebrato l'inizio dei lavori del primo lotto da Maglia Tricase che rappresenta il frutto di due anni di impegno parlamentare è fondamentale non perdere tempo per garantire che anche il secondo lotto possa vedere presto la luce il secondo lotto della superstrada che si estende per oltre 22 km da Montesano Santa Maria di Leuca rappresenta un tratto altrettanto importante che completerebbe l'itinerario da Lecce e Leuca eliminando gli attraversamenti di ben quattro centri abitati tra cui Lucugnano Alessano Montesardo e Gagliano nonostante il percorso sia ancora lungo e complesso nelle ultime settimane sono stati sciolti alcuni nodi interpretativi che rischiamano di rallentare i tempi di realizzazione grazie a prezioso aiuto del sottosegretario con delega alle opere commissariate Tullio Ferrante e Dianas attualmente tutto è pronto a fecchiere il comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato interregionale delle opere pubbliche possa esprimere il parere di competenza sul piano di fattibilità tecnico-economica mentre gli uffici competenti della regione Puglia avvieranno la procedura di valutazione di impatto ambientale passo dopo passo si sta procedendo verso la realizzazione di un sogno atteso dai cittadini da oltre 30 anni il deputato salentino di Forza Italia Andrea Caroppo ha sottolineato l'importanza di questo progetto e il suo impegno nel garantire che i lavori procedano nel modo più rapido ed efficiente possibile l'accelerazione dei lavori della superstrada 275 rappresenta un obiettivo fondamentale per migliorare le infrastrutture e la mobilità del territorio garantendo un collegamento più agevole tra le varie località e promuovendo lo sviluppo economico e turistico della zona Cambiamo argomento come di consueto ci occupiamo di cultura con la collega Lori Larva Continua il cammino itinerante Sammeredice un 2024 del Conservatorio Tito Schipa di Lecce con una programmazione che mira a portare in scena dal vivo il ruolo strategico del Conservatorio con il suo carico di storia e la rinomata tradizione di alta formazione attraverso concerti in grado di valorizzare i giovani talenti e sancire nuove collaborazioni istituzionali con l'obiettivo di aprire nuovi orizzonti Ieri sera tappa in piazza Castello Annardò con l'ensemble piano For Percussion che ha portato in scena Musica e Magia un concerto dal titolo evocativo per volare con la fantasia in mondi incantati o in posti tetri come i cimiteri dove la morte batte le ore con un violino scordato L'ensemble Piano For Percussion è una formazione del conservatorio che unisce le scuole di pianoforte della professoressa Maria Grazia Loi e di strumenti a percussione del maestro Fulvio Panico che si propongono di portare in scena in formazione cameristica alcune delle più belle pagine sinfoniche scritte per grande orchestra Gli arrangiamenti e la direzione sono affidati alla professoressa Silvia Stella docente di teoria e analisi e così Nardò ha potuto apprezzare questa formazione che è un unicum nel panorama musicale nazionale Questa sera siamo a Nardò perché questa stagione di concerti grazie all'assessorato dell'Università della Regione Puglia all'assessore Sebastiano Leo abbiamo deciso di ampliarla anche a vari comuni della nostra provincia anzi colgo l'occasione per ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Nardò che ci ha messo a disposizione questo meraviglioso spazio della piazzetta dinanzi al castello stasera è un concerto particolare ma anche molto attrattivo perché ascolteremo una serie di brani peraltro molto noti molto godibili però in una versione che prevede l'uso di due pianoforti e di percussioni volevo ringraziare la professoressa Maria Grazia Lioi il professore Fulvio Panico e la professoressa Silvia Stella e poi tutto il parterre dei nostri studenti che stanno partecipando come componenti di questo organico ed è tutto anche il TG dedicato a Lecce provincia termina qui grazie per averci scelto per averci seguito a tutti voi un buon proseguimento di giornata rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia di Puglia di Puglia